Ah, Ormond stavolta, dai! Finalmente Ormond Proviamola Nella nuova modalità Vediamo Victor E andiamo alla ricerca di stiratti Ma qui non c'è nessuno Vediamo che stanno al centro No Dove stanno? Eccoli qua Ricordiamo che in questa modalità Non ci sono perk, non ci sono addon Non ci sono tracce Non c'è niente Il massimo che possono fare È cercare nelle cassette Degli oggetti Perfetto Perfetto Brava Ada Volevi fare il genna a tutti i costi Invece sei finita a terra È giusto così Wow Top giocata di Ash What? Belle ste hitbox Grandissima gate Grandissima gate E questo succede Quando si fissano con un genna Non ci sono Ash ci saluta Bye bye Ash Alla fine quel genere l'hanno fatto Ah no è ancora vivo Pensavo fosse The Duke Male Perché qua non ti fa vedere Nemmeno quanti ganci hai fatto Quanti generatori hanno fatto Non vedi niente in questa modalità Ok Oddio Oddio ragazzi Così si fa grabbare questa Oddio Complimenti ad Ada C'è Claudette Questa che si mette a fare il totem Uno più intelligente dell'altro Eh si serve Sembra che hanno raggruppato Degli alcolisti anonimi In una partita Olè Easy peasy Lemon squeeze Diciamo che si Sta modalità Il mio pensiero personale È che Dopo 7-8 anni Di Dead by Daylight Potevano inventarsi Qualcosa di meglio Raga Parliamoci chiaro Molto mediocre Come modalità Anzi Estremamente mediocre C'è uno si aspettava Una modalità Quei controcazzi Dopo tutti questi anni E invece Guarda cosa ci siamo ritrovati Triste Triste Non c'è di qua Perfetto Eh, fanno i gen, attenzione Easy Ho finito Il bro si credeva furbo Allora Il problema è che ora non so dove sta L'altro che ho atterrato Se non sbaglio era qua Sarà salito sopra Dov'è? Dov'è? Dov'è diavolo è? Ok, qui c'è la botola Andiamo a chiudere la botola Così non rischiamo che prenda la botola Non mi devo nemmeno preoccupare di adrenalina Che bello ragazzi L'unica cosa che mi piace di questa modalità È che non ci sono i perk Questa è l'unica cosa che Che mi alletta di questa modalità Per il resto Io voto Quattro e mezzo Questo è il mio voto Ditemi voi il vostro voto Poi Ma dove è finita sta tipa? C'è Ormai la botola Nemmeno la puoi prendere Mi spieghi perché mi devi far perdere tempo? Vabbè Pur sempre è un survivor Sappiamo bene che il 90% dei surf Sono Dei cagagazzi Sto cercando ovunque Non c'è Vabbè Morirà dissanguata Non so che dirvi È sparita questa Non so a fine è vicino GG easy ragazzi Mi ha fatto perdere tempo inutilmente Tanto era palese che non vincessero E questa è la nuova modalità Voto quattro e mezzo E io ho dato pure tanto forse Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Grazie Grazie E tutaj Pra Per